C'è lì si nervosisce, è già nervosa, ha ricevuto col naso E' già nervosa, sono zero a zero, è incredibile, ora firme e si ritira Spogla! Grazie a tutti! Forse ci siamo ripresi Forse ci siamo ripresi Forse ci siamo ripresi Forse ci siamo ripresi 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 12 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 17 18 19 Ah, come voto. Andiamo. E più uno, Giada. Vai. Buon livello. Sette. Conzitti. Sette. 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 Giodona aspetta 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 e poi Nicola dead ball sul centro del campo ok difesa da Elisa vai questa doppia l'ho vista anch'io non c'è un attacco la camina l'attacco infatti lo tocchiamo non ci sono mai capolato è la fuori cazzo se ve lo va giusto grazie 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 grazie